Allora, è sabato pomeriggio e invece di pensare a dove andare a parlare stasera come le persone normali di questo mondo, stiamo in realtà andando da officine fotografiche perché ci sarà un talk, ci sarà un touch and drive delle camere Fuji, andiamo a rompere le scatole a Camilla, giusto così perché l'abbiamo vista poco in questo periodo e quindi andiamo a fare un po' questa questa spedizione per vedere la situazione come cosa si può fare e proveremo sicuramente la X106 un'altra volta, la testiamo con calma, la trovo una macchina molto molto interessante e vediamo un po'. E allora, visto che siamo al festival della street photography proposto da officine fotografiche prima del workshop, o meglio del talk, ne approfitto per farmi prestare una XT5 con un 27 mm Pancake e andiamo a fare qualche scatto e ci divertiamo un po'. Andiamo! Beh, ragazzi, tiriamo qualche conclusione dopo questo evento e cerchiamo di trattarlo in tre punti. Allora, il primo punto è la street photography. Allora, non essendo io un grande amante di questo genere, non sono pienamente in grado di apprezzarlo e quindi non mi ha particolarmente emozionato questo evento. D'altro canto, però, credo che eventi del genere siano particolarmente interessanti perché permettono innanzitutto la condivisione delle idee, la possibilità di vedere, diciamo, generi diversi dal proprio, trarne ispirazione e soprattutto fare networking, quindi parlare con altra gente, conoscere ambienti nuovi e ampliare le proprie conoscenze. In più, la possibilità di sentire talk di fotografi che già fanno questo di mestiere può essere uno stimolo a fare di meglio e a migliorarsi. Il secondo punto, invece, parliamo un po' delle fotocamere. C'erano a disposizione le fotocamere della Fuji, ho testato, come avete visto, la XT5 in una modalità che è quella più dedicata alla street photography e poi ho provato un'altra volta alla X100, sesta versione, per la seconda volta. Quindi posso iniziare a tirare un po' qualche opinione su questo modello. È un modello che io penso sia molto orientato, ovviamente per chi fa street photography, ma anche per chi vuole passare del tempo a divertirsi con la macchina fotografica. Ho avuto modo di provare quella e, in passato, di provare la Leica Q3. Ci sono due modelli che dovrebbero avere lo stesso scopo, sono simili, ma in realtà sono molto molto diversi e penso che anche l'utilizzo sia diverso, non solo per una differenza di prezzo, ma anche per una differenza di ingombro a livello di spazio proprio. Cioè, la Q3 è decisamente più pesante, forse meglio costruita, ma più ingombrante. Mentre invece i modelli della serie X100 di Fuji, per quanto abbiano un sensore più piccolo, perché è un sensore APS-C, sono molto più leggere, più piccole, più portatele, forse più giocattolose, ma proprio per questo motivo più divertenti. metterti al collo una X100 non ti crea problemi, mentre invece mettere al collo una Leica Q3, a meno che non fai il fotografo di street photography professionale, diciamo che può essere una cosa impegnativa, nel senso, paura di romperla, paura che ti venga rubata, attira un po' di più l'attenzione, invece quella, sembrando un po' più giocattolosa, non attira molto l'attenzione. D'altro canto, poi, provando invece una XT5 con 27 mm, che non è la mia lente preferita, però, diciamo, ha la possibilità di creare delle fotografie molto divertenti con un minimo ingombro. Avere una lente pancake, quindi una lente che non occupa molto spazio, non crea grandi pesi, può essere una, diciamo, un divertimento da provare. Quindi anche avere un XT5 o una qualsiasi macchina della Fuji con una lente pancake nel proprio corredo può essere divertente per l'everyday, cioè per i momenti di ogni giorno. Teniamo però in considerazione, però, che ovviamente una 27 mm va ad avvicinarsi molto a quello che è il 35 mm sul full frame, e quindi potremmo avere dei problemi di spazio. Nel senso, può essere adatta all'aperto, ma forse potrebbe non essere così adatta in ambienti chiusi. Ultima considerazione. Ultima considerazione, parliamo un poco dei talk. Ci sono stati due talk, ne abbiamo seguiti tutti e due. Il talk al cui eravamo un po' più interessati era quello tenuto da Martin Parr. Fotografia di Martin Parr, interessante per l'ironia, per il tipo di fotografia, per l'innovazione del fotografo, utilizzare sempre il flash esterno per fare ritratti in strada, praticamente puntando e scattando. Altro fotografo che aveva preso un stile simile, ho parlato prima di lui, però non mi ha emozionato fino in fondo, nel senso che sicuramente ne riesco ad apprezzare la bellezza, la bellezza, non riesco ad apprezzarne il fascino. L'ironia, però non riesco a essere coinvolto al 100%, sarà una limitazione mia, cioè un limite mio. Quando trovo qualcosa che mi piace non riesco a distaccarmi lo sguardo e a concentrarmi su quella determinata cosa, attira completamente la mia attenzione. Siccome la fotografia di strada non lo riesco ad apprezzare come genere, non mi attira particolarmente, non riesco ad essere particolarmente coinvolto da questo tipo di fotografia. Mi fa sorridere in alcuni scatti, in alcune cose, però non mi lascia chissà quale grande emozione. Diverso è invece il discorso della sua vita e della sua evoluzione fotografica. Quello invece mi ha emozionato tantissimo, perché se è partito da un livello di fotografia, da un modo di scattare, a evolversi in più anni, cioè in più periodi. La fotografia è una cosa che ci accompagna nel nostro cambiamento, nel nostro stato d'anima, quindi cambiando noi cambia anche il modo in cui andiamo a scattare a fare foto. E questa cosa mi è rimasta davvero tanto, quindi mi ha particolarmente colpito. La stessa fotografia io credo sia un concetto abbastanza difficile da afferrare. Non è una cosa che, diciamo, si comprende appieno. Sembra essere un contenitore di tantissime cose. A volte vedo foto di architettura, definite street photography, altre volte vedo ritratti ambientati, definiti street photography, quindi anche nella mia testa non è molto chiaro cosa sia esattamente la street photography. Se avete la vostra opinione scrivetela nei commenti, sarò felice di leggerla. Però c'è un problema che vedo legato a questo concetto di street photography, ed è il ritratto ambientato spacciato per street photography. Mi spiego meglio. Se vado ad aprire TikTok, oppure Instagram, e inizio a scorrere il reel, o i video appunto di TikTok, vedo un sacco di gente che ferma, altra gente per strada, con un 85 mm, in genere quella è la focale, per fare dei ritratti. Ritratti a chiappa like, perché non li possiamo definire street photography. Tu stai facendo un ritratto ambientato, è vero uno sconosciuto, cosa che ho visto fare da Walter Quiet un sacco di tempo fa, ma anche da un altissimo altra gente. Cioè tu fermi uno sconosciuto, l'ho fatto anche io, ci sono dei video in cui ci divertiamo a fare quello che è lo sconosciuto, per meno sconosciuto, gli scatti una foto nel miglior modo possibile. Però quando tu usi un 85, un 100 mm, l'effetto wow è facile, perché sfogli tutto lo sfondo dietro, ti concentri su quelli che sono i tratti del viso, e quindi è facile che la persona scattata sia impressionata dalla foto, perché ovviamente è una lente che tende ad abbellire, a rendere migliore la persona rispetto a una fotografia fatta con uno smartphone. Però la possiamo ritenere street photography? Io credo di no, credo che la cosa sia sbagliata, in realtà è semplicemente un ritratto ambientato ad uno sconosciuto, con un effetto wow dovuto all'85 mm ed è soltanto di moda perché appunto si ha questo effetto wow. Chi non è abituato a scattare fotografie, a vedere il risultato di una fotografia fatta con 1.85 mm, 1.2, 1.4, 1.8, è normale che c'è questo effetto con il bokeh dietro esagerato e quindi fa questo effetto sorpresa al pubblico, è un effetto facile da ottenere. Però il livello di messaggio è un ritratto, io lo vedo sempre e comunque un ritratto ambientato, ma è un ritratto. E dal mio punto di vista invece la street photography può essere anche un ritratto ambientato, ma deve essere contestualizzato, deve essere un momento. Io non vedo più vicino al reportage, cioè un avvenimento che tu riesci a bloccare nel tempo o un qualcosa che attira la tua attenzione all'interno dello spazio in cui stai camminando e ti stai muovendo e che merita di essere condiviso perché hai un messaggio da dire, ti ha dato qualcosa e vuoi smettere qualcosa. Ma queste sono tutte mie congetture, in verità ancora non so esattamente come definirlo questo genere. Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possiate partecipare a eventi fotografici, che siano prove o che siano appunto eventi organizzati dall'associazione culturale o associazione fotografica più vicino a voi, può essere solo un modo per conoscere gente con la vostra stessa passione. E se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici per darvi una domanda a crescere. Ecco beh, si va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!